Torna subito al successo la MBC Servizi Arezzo che dopo la sconfitta a Casalinga con Gallarate ha espugnato Varese con il punteggio di 93 a 75. Partono subito Farta e Amaranto che mettono a referto 4 triple inframmizzate da due penetrazioni di toia che lanciano la MBC Servizi. La SBA segna con ottima continuità chiudendo la prima frazione di gioco 31 a 19. L'inizio di secondo quarto è ancora migliore per il quintetto di coach evangelisti che tocca il massimo vantaggio sul 47 a 21. Vibrante la reazione di Varese, le due squadre vanno così a riposo sul punteggio di 52 a 38 per la SBA. Nel terzo parziale le percentuali degli eretini calano, nonostante questo un super pelochini e zocca continuano a far male alla difesa avversaria. Varese però non si scompone, con pazienza sul finale di quarto riesce a tornare sotto la doppia cifra di svantaggio. Botelli poi apre l'ultimo quarto con un tiro da tre che accorce il divario tra le due squadre. Arezzo non riesce a concretizzare le conclusioni create così i padroni di casa guidati da Zao si avvicinano ancora. 67 a 72 ad 8 minuti dalla conclusione. La membici servizi nel momento di difficoltà si affida alla vecchia guardia. Toglia Rossi e Peruchini alzano l'intensità difensiva e riprendono a portare punti alla causa a Maranto. Il parziale di 15 a 0 a favore della SBA è di quelli che non lasciano appello. Arezzo può gestire con serenità gli ultimi tre minuti di gioco che servono solamente a fissare il punteggio finale sul 93 a 75. Nemmeno il tempo di rifiatare da questa lunga trasferta che la membici servizi Arezzo è chiamata a tornare in campo mercoledì 27 marzo nel turno infrasettimanale che coincide con la prima giornata di ritorno della seconda fase. I Maranto saranno di scena sul campo del Dertona con palla 2 alle 21.